Buongiorno liceali del liceo artistico Bruno Munari, come è andata questo primo giorno di scuola? Ma tutto sommato è andato bene, abbiamo già iniziato con le lezioni. È andata bene, abbiamo conosciuto i nuovi ragazzi di prima e sembrano propensi a comportarsi bene durante l'anno. E che aspettative avete per questo ultimo anno scolastico? Ma la pressione della maturità inizia già a farsi sentire, i professori contribuiscono diciamo, però le aspettative sono buone. Si spera di uscire e finire al più presto questi cinque anni, quindi ci si impegna almeno per l'ultimo anno.